quando è un ottimo chebabbaro sotto casa sotto casa ti risolve la serata un'altra volta di vitello e pollo e dividiamo perché poi ne abbiamo altri due da sotto eh non credo perché c'è un po' per la Rosy che gli piace tanto il kebabone abbonda 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 è ricaduto tuo eh abbonda vitello buonissimo abbiamo un kebabaro uno dei cento che abbiamo sotto casa che è straordinario fantastico speriamo che anche oggi non ci deluda sì sì no di solito no poter riso poter riso ci sono altri due le farze